alla bingo bongo vado a spacciare la diretta non l'ho neanche pubblicizzata oggi però l'avevo pubblicizzata ieri quindi magari lo ricordate pure allora perché già tre aspetta che non so come uscire da qua ecco ciao diego adesso devo solo spacciare la live in giro e poi arrivo la voce è gentilmente rientrata stefi buonasera stefania buonasera allora ma perché mi si apre watch che mi fa schifo watch ce la posso fare allora o eccoci allora devo cercare di condividere perché se hanno cambiato tutto qua non ci sto capendo più una mazza segno perché l'usite questo è un uomo autun buonasera teresa buonasera sto tentando disperatamente di entrare per condividere la live silvia buonasera felicità buonasera jessica buonasera sì sì a me chi mi ammazza silvia buonasera bravo allora ora così e mi butta fuori ma porca di una miseria ce la posso fare eh sì sto decisamente meglio la tosse c'è sempre però parlo di nuovo con una voce semi umana non riesco a entrare nella pagina con l'account di sveva allora vediamo di riuscirci abbiate pazienza due minuti pamela buonasera devo vedere di riuscire rosaria buonasera allora 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 vediamo se da qua ci perché come entro nella pagina mi da l'account della pagina ma da lì non posso condividere sui gruppi e se metto il mio account mi butta fuori allora devo cercare di entrare dall'altro l'altro l'altro lato vediamo se ce la posso farcela ok oh ce l'ho fatta mi auto metto il mi piace storia poi nei feed siete già 19 siete più veloci dalla luce in quattro minuti ecco la live per questa volta spostata al martedì ciao federica anche io e rosaria ti abbraccio sono contenta che ci sei stasera ok ora spaccio il video in giro e poi arrivo qualche blocco con la tosse concedetemelo perché ce l'ho ancora eh quando parlo un po' di più qualche colpo mi pigia allora una pagina poi pagina seconda pagina trilogia vuzun poi allora la prima pagina era fantasmi paranormale mistero misteri esoterismo la seconda è tra la trilogia vuzun e sulla terza pagina mia che è il nido del corvo poi i gruppi ma sono solo tre anzi si tre quelli dove condivido quindi faccio presto promesso gruppo uno fantasmi paranormale mistero e esoterismo gruppo due oppla il gruppo del nido del corvo elite che è il mio gruppetto piccolino delle vendite e delle chiacchierate e poi il gruppo pubblico fantasmi magia liberi occulto ho spacciato in ogni dove ora ora apro un attimo in grande ecco così leggo anche i commenti laura buonasera altro che petardi guarda cosa è un conciata sono in uno stato pietoso sembro lo scienziato zichichi senza il suo stipendio però pina con i cuoricini saltellanti buonasera la bronchita non mi ferma e quindi come da copione misti smoke latte condensato e anacardi non ce la posso fare dissertazioni sopra le apparizioni di spiriti e sopra i vampiri o i redivivi del talmet no mi manca ora prendo appunti diego no non l'ho mai letto me lo devo cercare assolutamente prendo appunti apro google tanto metto lì poi dopo lo cerco con calma grazie hai ragione pina ma ieri poi sono uscita fuori a mangiare ho fatto tardi allora ho avvisato che la spostavo a oggi perché io non cambio mai gli orari tranne che quando devo mangiare no l'acqua Laura guarda io ho un rapporto con l'acqua che io amo l'acqua io bevo circa 4 litri di acqua al giorno ma stai tranquilla che se mi devo ricordare di portarmela mi scordo mi è ricapitata una cosa stranissima che ho abbinato all'ultima esperienza non ricorderai ma mi avevi detto che ero andata in astrale poi in sogno lucido perché probabilmente un defunto aveva chiesto aiuto a un intruder ma io sono ostica e sono scappata per paura e lui ha cercato di riprendermi prima di raccontarti posso chiederti se gli intruders possono avere occhi gialli o marroncini a forma di goccia con la punta verso l'esterno degli occhi non so se riesco a spiegare ma gli intruders sono di tante razze è il lavoro che fanno quello degli intruders però non hanno un aspetto fisso perché non è una razza sola come anche i tutelari i tutelari diventano di luce però le forme cambiano perché sono di più razze però come lavoro tra virgolette fanno i tutelari e loro fanno gli intruders però si possono avere più forme le entità che fanno rumori e spostano cose per farci accorgere della loro presenza sono entità positive o no non c'è un'entità positiva e un'entità negativa le entità sono soggettive come le persone è come dire ma una donna che fa avanti e indietro al mercato è positiva o negativa non lo puoi sapere perché ci può essere la donna buona che fa avanti e indietro per guardare le bancarelle ci può essere la donna stronza che fa avanti e indietro per vedere cosa fanno le vicine in giro per esempio e la stessa cosa vale per l'entità non c'è una categoria che è solo buona una categoria che è solo stronza malvagie sono rarissime proprio quasi inesistenti però a volte sono dispettose a volte invece sono più vogliono solo farsi notare farsi sentire eccetera alcuni invece vogliono proprio fare qualche dispetto del tipo ora ti faccio scantare faccio muovere la sedia così ti spaventi così perché mi voglio fare una risata ecco però non puoi sapere quale sia la mia stregaccia l'origine dei vampiri la so sono i discendenti di mu ma se tu avessi letto i miei romanzi che c'hai ma non me li vuoi leggere avresti scoperto che derivano dalla vecchia stirpe di mu specchiatura fallita ho creato una piramide talmente storta che temevo di evocare stancare brava mi fai ridere non mi fai ridere che muoio in diretta la mia compare ormai lei fa parte della categoria compare Giovanna Lucido buonasera mia figlia ciao Pami Serena buonasera Cristina buonasera gli intruder si aiutano i defunti a portare i vivi in lucido quando non sono capaci a farlo da solo il succo è quello Alicia buonasera una notte stavo campeggiando in un bosco mi sono messa a fare una passeggiata al buio e ho visto due occhi di colore diverso uno rosso e uno blu elettrico ero con un'amica che si è cagata addosso beh dipende anche lì un occhio diverso dall'altro ce l'hanno anche le persone diciamo in real e anche alcuni tipi di razzi animali come gli aschi quindi credo che la policromia sia un un modo di apparire che possono utilizzare anche altre entità e anche creature tra l'altro ora non ho mai visto un licantropo o un'altra creatura policromica però potrebbe essere che ce ne siano blu e rossi come colori mi fanno pensare giusto ai pennuti ai demoni perché rossi ce l'hanno anche alcuni licaon a volte alcuni anche alcuni lupi mannari ma più licaon e blu ce l'hanno anche gli esseri umani però blu elettrico no però razze che ce l'abbiano blu a parte i pennuti che però ce l'hanno blu metallico di creature vive non mi viene in mente nessuno al momento ma tu quando mai non vuoi stuzzicare vieni quest'anno in ferie da me vero stregaccia torni matilda buona oh matilda buonasera ma ciao oh stasera se rido è finita faccio il concerto in diretta sarà buonasera giusi gabriella anna buonasera federica eccola con suocera è arrivata sarà un lupo mannaro non ero qui ma guarda che mica si mangiano le persone mi vedo proprio in forma si in forma oddio però sono sopravvissuta solo i defunti possono chiedere agli intruders di portare una persona lucida oppure anche qualche vivo per quanto si puoi evocarli però devi essere un occultista e non puoi evocare un intruder se così devi avere delle basi di occultismo serio per poter andare a scegliere anche che tipo di entità evocare gli unici che arrivano sempre con le evocazioni di solito anche dei più scamarci che non l'ha mai fatta sono i demoni perché loro bene o male appaiono sempre ma le altre tipologie di entità se non sei proprio mirata come fare per evocarle difficilmente vengono anche i tutelari vengono abbastanza ad aiutare tutelari e demoni sono gli unici due che cacano anche quelle alle prime armi con gli altri è un po' più complessa la situazione mi è capitato di notte mettendomi in una determinata posizione di sentire tipo un grillo nell'orecchio destro devo andare a Torino o potrebbe essere un'entità che mi bestemmia dietro sai che io ho avuto la stessa cosa Diego per anni ma per anni sentivo sto fr 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 che sembrava un grillo e dopo anni sono riuscita a scoprire che intanto non era un grillo ma era una cicala e che è il mio suggeritore io come suggeritore ho una cicala e quindi quando questo si decide che mi vuole dire qualcosa frinisce solo che non lo capisco lo sento però non lo capisco potresti avere un suggeritore grillo guarda che non sarebbe difficile ho sentito una pressione alla spalla sinistra e c'era questo essere in basso al letto io gli ho detto senti mi ha detto che non devo scappare ma tu cerca di non farmi paura perché stavolta voglio rimanere e capire non ho visto più gli occhi ma è rimasto lì attaccato alla spalla in lontananza ho visto una finestra a quattro vetri ma non ho visto maniglie aveva bordo bianco e un più nel mezzo a dividere i vetri dietro un bellissimo giardino verde ma non riusciva ad arrivarci mi ha fatto voltare a destra e c'era una grossa bolla sul letto ho guardato dentro e c'era il mio ex marito che dormiva ho visto tutta la sua camera ma mi sono incavolate e ho detto ma che cazzo ci fa questo qua me ne sono andata in nervosita lui ha aumentato la pressione sulla spalla non si è mosso e gli ho detto voglio tornare e voglio che mi fai capire bene ora secondo te ha portato il suo messaggio e io non ho capito o devo aspettare una terza venuta secondo me che devi aspettare una terza venuta poco ma sicuro il tuo ex marito è vivo per il momento perché mi comincia ad avere qualche dubbio appunto Diego che ti dico quindi prendi in considerazione che potrebbe anche essere qualche tua guida che frenisce quanto ho scritto non riesco a spiegarmi velocemente con i messaggi si capisce si 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 ho capito cosa intendi dire solo che il tuo ex marito si interessa di evocazioni no perché ma a questo punto se è vivo potrebbe aver chiesto però mi è più venuto il dubbio che potesse non essere più vivo e che fosse appunto avesse assunto l'intruders per farti vedere o capire qualcosa o semplicemente per dirti qualcosa se ti invitava lui essendo l'ex marito suppongo che non ci saresti manco andata fiammetta buonasera Claudia buonasera scusate mi devo soffiare un attimo il naso so che non è bello in diretta ma non posso farne a meno Anna buonasera sto ancora mezza raffreddata però tra il levotos ho scoperto sto sciroppo levotos si chiama io lo prendo a golate non è che lo sto a misurare però per un po' mi calma gli spasmi continui e poi grazie anche al santissimo ora è sempre pronobis delta cortene evito di morire soffocata durante la tosse asmatica è vero si si ho comprato uno sciroppo sedativo io volevo uno sciroppo a base di codeina come al solito e invece la farmacia mi dice non ce l'ho però c'ho questo qui c'ho il levotos che a base di un'altra sostanza simile comunque alla codeina e ci ho detto vabbè dammelo e in effetti quasi mezza giornata non tossisco quasi per niente è fantastica riesco a dormire e io non lo conoscevo proprio ho sempre preso il sine cod che era a base di codeina appunto e calmava tra l'altro rimbambiva un po' il sine cod invece il levotos non rimbambisce neanche è proprio buono Ares buonasera Lady Ghost e Lady Sadako ci sono eh faccio presente se non si offendono eh a me quello mi fa un po' senso Carrie a me la roba a base di humac anche le creme mi fanno un po' impressione sono tutta strana io lo uso anche io a carganella ma dopo un sole veniziale mi aumenta il catarro e lo condensa puoi scatare poi scatare i rossetti di gomma non mi fa ridere Diego già prima ci ha provato Francesca a uccidermi con una risata se mi fate se mi fate ridere non arrivo viva stasera peggio per lui preferisco di là che di qua invocare cose che non deve invocare anche perché mi succede l'inferno ultimamente ma vorrei che col suo odio mi tiri qualcosa perché a me si è concesso che possa farlo no di là i rituali non si fanno più in effetti quando qualcuno dice c'è un'entità in casa e sono sfortunato ma l'entità in c'entra un tubo con la sfortuna un vivo è capace che ti tira un accidente un defunto non te ne fa rituali accidenti quindi è vero pam è proprio buono quindi avete detto non posso prendere sciroppo eh beh si per forza Carrie adesso non puoi prendere nulla con la roba zuccherata io vabbè io campo a zuccheri e pane per me il meno e io ho preso lo sciroppo di Levotos però funziona bene è che lo sciroppo è più buono e dolce riguardo oggi l'ennesimo tuo video quello sul ghost detector ma uno che scarica l'applicazione mica può vedere l'entità ben definita come hai fatto vedere nel video lo sciroppo si chiama Levotus ma è efficace anche il ribest nigrum costa un po' ma so capitate in una famiglia di medici e farmacisti ma guarda Federica io compro il primo sciroppo che capita a me la roba chimica la roba di medicinale normale non mi da nessun problema non ne uso tanta a parte la pastiglietta per il colesterolo normalmente non prendo altri medicinali ma se sto male io preferisco prendere quattro medicine belle potenti tipo il delta cortene 25 mg tipo la bustina di Howlin l'antibiotico 1000 e via dicendo e guarire subito piuttosto che stare a prendere tanta rubetta magari più soft naturale che rischio 10 shock anafilattici quindi a me fa meno male la roba chimica e quella la baba di lumaca mi fa senso cosa ridi del tentato omicidio preso anche io ma guarda Cristina io mi sto trovando bene almeno per un po' di ore me la seda soprattutto per dormire è un sedativo non cura ti ferma solo gli spasmi della tosse convulsa non è curativo in questi giorni ho sempre in mente Ganesha non so perché mi parli un po' di questa divinità per favore Ganesha è il bimbo elefante poi diventato adulto è il bambino con la testa di elefante è il figlio di Krishna e Parvati no è il fratello di Krishna figlio di Parvati e di Lord Shiva è una delle divinità più buonarie è una delle divinità a cui ci si aggrappa per chiedere aiuti per chiedere favori per chiedere protezione in effetti è una delle divinità più buone in assoluto del pantheon hinduista ah ma si in effetti io cercavo un qualcosa a base di codeina ma poi non ne avevano comunque anche questo qua il levotus è buono proprio è calma che poi la codeina la venevano anche schietta una volta in fiale per i denti mi pare qualcosa del genere ricordo che mio padre comprava la codeina per il mal di denti forse che lo preferisco del punto che è vivo eh lì bisognerebbe indagare felicità e vedere un attimo come è messa la situazione come diceva mia nonna si deve avere paura dei vivi non dei morti ma è vero sai Jessica hanno più potere di farci del male i vivi che i defunti i defunti non hanno potere su di noi ve lo sciroppo sardo un cucchiaio di miele un cucchiaio di succo di limone mezzo cucchiaio di zucchero acqua calda di tanto in tanto il bicchiere ah ma quello lo faccio di mio perché mi piace l'acqua con il limone e il miele quello lo faccio o faccio quello oppure mi faccio il tè albanese con dentro il burro che anche quello aiuta tanto la gola eh tesoro amore mio Sara io non lo so ma probabilmente può essere non è lassù comunque non ce n'è lassù i defunti sono qua pari a noi non sono in alto e non sono in basso però si può essere benissimo che ti guardi assolutamente sì zucchero miele e limone nell'acqua calda a modi tisana io invece questi giorni ho in mente spesso la dea Kali personaggio contrastante ma mi affascina molto io amo Kali io ho l'effigie di Kali su dall'altare appesa al muro è una delle mie divinità più amate e in effetti ogni tanto mi sento anche i mantra Kali Durge Namat Namat perché sono fissata con Kali ciao Eva non sempre le situazioni di vita difficoltose sono portate da qualcuno che ce l'ha mandato sì infatti bisognerebbe analizzare anche appunto come avvengono perché avvengono in che modo perché le difficoltà della vita fanno parte proprio dello studio di queste vite terrene nessuno ha le vite facili in tutto quanto influiscono i pianeti le traga gli spiriti io di solito controllo sempre il moto dei pianeti ma a volte dura mesi ma diciamo che a scalare a lontananza valgono sempre meno a meno che non sia un rituale specifico da fare sotto una certa congiunzione astrale però andiamo nel grosso proprio in quel caso per i rituali classici diciamo alla portata di tutti oltre la luna al massimo il sole per qualcuno non si vanno neanche a controllare se tu vuoi essere proprio fiscale faccia pure ne sono contenta Sara oh è sbucata mia sorella Rita che dice esatto non so su cosa ma dice esatto ma si perché poi alla fine Francesca è tutta roba che fa bene per queste situazioni il miele il limone eccetera è tutta roba che fa bene in queste situazioni Giulia buonasera ma sai che è proprio bello Canesha io ne avevo visto una sfogliando le statuine io c'ho la fissa delle statuine lo sai e ne avevo vista una di Canesha che era bellissima ragionando un po' sui defunti loro dipendono da noi vivi materiali cioè dai nostri ricordi nei loro confronti per incrementare le loro energie sì esatto ma noi dipendiamo da loro nel senso che comunque siamo anime anche noi e quando siamo di là anche noi dipendiamo dai vivi ma sì tanto l'intruders è solo un messaggero poverino che fa il suo lavoro non è di parte quindi aspetta che viene magari vedi se ti fa capire meglio lo zenzero mi piace ma dopo un po' mi pizzica troppo Anna Maria buonasera ciao Sonia buonasera Felicia o la fatina buonas noces te ne vai già a dormire che fatina nottarina quando ero adolescente una sera stavo discutendo con mia mamma sapevo di aver torto ma continuavo imperterrita ero da sole in una stanza e continuavo a parlare con la mamma mi sono sentita tirare una sciocca di capelli a destra e girandomi ho buttato l'occhio alla finestra era buio fuori e ho visto riflessa la stanza ho visto nel lato da dove ho sentito tirare i capelli un ragazzo uomo alto più di me ho sempre pensato fosse angelo custode perché mi riprendeva infatti poi sono stata zitta diciamo Silvia che poteva essere una guida non è detto che fosse un angelo però poteva essere una delle tue guide assolutamente sì ho controllato se non ci fosse qualche pianeta ma no va benissimo se fai più controlli io sono troppo pigra per andare a controllare anche i dettagli però assolutamente è una cosa positiva svolarsi di qua e di là da un fiore all'altro fatina oh l'elementale masculo perché l'elementale femmina ce l'avevamo già online Marcello buonasera dipendono dai vivi solo coloro che faticano a riacquistare tutti i ricordi animici perché diversamente la maggior parte di loro prosegue il proprio percorso e non ha bisogno di essere ricordato perché si va a reincarnare e sì ma si va a reincarnare sempre e comunque quando ha bisogno anche di ricoltivare nuovi ricordi negli altri a prescindere poi dal percorso però sì quelli che non ricordano hanno maggior bisogno di ricordi degli altri quelli ripitere i mnemonici per capirci perché non hanno nessun modo neanche di continuare ad andare avanti e quindi nemmeno di andarsi a riencarnare assolutamente simona buonasera maria teresa liana prego consuocera ora mi pizzica anche il naso tra poco attacco anche a stare un tire sì 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 avevo capito cosa intendevi una foto di una hai beccato un ente ne avevo beccato una anch'io tanto tempo fa ma poi non so che fine ha fatto la foto e insomma Eliana c'ho la voce che va e viene un pochettino e c'ho la tosse però sto in piedi Barbara buonasera ah l'ho visto l'ho visto quell'ulivo grande grande con la faccia l'anziano l'ho vista in giro con la foto sì è un ente è un ente antico è già un po' che gira quella foto ed è vera ah ce n'è un altro vicino a casa tua ma chissà perché gli ente quasi sempre sono crescono uno a forma di ulivo è quello dicevo io quello in Puglia non pensavo ce ne fosse uno anche da te che il mio pendolo è super fighissimo così tanto per farvelo sapere ma noi volevamo saperlo perché ora tu devi fare pratica con noi quindi ti metti lì adesso poi Laura e fai il pendolo a tutti è un ottimo allenamento amore mio Ilaria maestra di zumba del mio cuore anche se io non ballo la zumba ma ti amo sì 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 scusami ti dovevo scrivere poi presa dall'influenza e mille milla casini mi sono persa è arrivato non so mai come ringraziarti io a te tosse senza voce ma continuo in partire da fumare ti stimo sai che mi hai fatto ridere con quel ti stimo perché ieri mi guardavo un pezzetto di fantozzi quando gli diceva la pina ma amare no è la pina Ugo io ti stimo moltissimo sto facendo un percorso universitario davvero ostico e sembra sembra sempre che qualcosa debba andare storto che qualche energia riesca a dirmi che se devo continuare così sto inseguendo una mia passione con tanti ostacoli sai cosa Giulia ti dico la mia quando in un percorso ci sono tanti problemini che poi alla fine si risolvono però che rallentano che inceppano significa che la positività di quel percorso arriverà tutta la fine quindi se fossi in te farei tutta la fatica che stai facendo ma continuerei fino alla fine perché di solito siccome è un controbilancio quando in una cosa abbiamo bisogno di tanta fortuna dobbiamo prima beccarci tante sfighe quando in una cosa ci deve essere una grossa sfiga prima abbiamo tante piccole fortune è una compensazione universale non lo sapevo che in sila si trovassero ancora degli ent io non esco mai dalle marche ecco abbiamo già trovato una cavia brava Laura io comunque mi offro volontario siccome a me non me lo legge mai nessuno il pendolo le carte a me nessuno mi fa mai niente allora mi fai il pendolo sul mio prossimo libro me lo fai il piccolo Albertino chissà se starà sempre aspettando i suoi amichetti non sono più stata al cimitero qua in giro è già parecchio che non ci vado quindi non so se sia ancora lì a zonzo prossima volta che ci vado ci butto un occhio durante la regressione nella fase della scelta di uno specchio è possibile intravedere le proprie guide è successo a un mio amico che ha visto due figure ma di spalle chi poteva essere io ho pensato alle guide potevano anche essere semplicemente personaggi di alcune vite reincarniche le guide in onirico in astrale le puoi anche incontrare ma le incontri fuori dagli specchi non dentro agli specchi dentro allo specchio puoi vedere una tua guida se fai il rituale dello specchio con uno specchio vero in casa può succedere che appaia qualche tua guida fai il pendolo al mio ex marito quando si seguono i propri sogni anche se la strada non è facile bisogna proseguire e non rinunciare anzi proprio perché la strada più difficoltà se il risultato sarà più soddisfacente esatto carri la stessa cosa che dicevo io ma è proprio una legge universale potrebbe averlo accompagnato nel percorso di regressione sì però sarebbero fuori dagli specchi non dentro carri no sto dicendo una cavolata io l'ho incontrata qualche volta le mie guida che penso come il prezzemolo si pucano con i funghi però erano sempre fuori dagli specchi nel prato diciamo sono sempre standattratto dall'occulto ma ho sempre evitato di avvicinarmi in modo concreto la prima e l'unica esperienza che ho avuto e mi ha allontanato dalla pratica risale alla mia adolescenza una tavola guia alla prima domanda la palettina è schizzata via ho raccolto maracca burattini e finita la mia carriera di stregone ma pensa Diego che era una delle pochissime volte che posso garantirti che la guia stava funzionando perché è così che deve funzionare la guia che devo sempre farlo il video non deve essere toccata la planchette la planchette la planchette si deve muovere da so si va bene adesso mi è scivolata si deve muovere da sola se si muove da sola c'è l'entità se la muovo io col ditino non serve niente per questo dico sempre che nel 90% chi la fa non può comunque avere risultati col ditino sopra perché il ditino implica che non puoi avere la certezza che sia vero se invece si muove da sola allora la certezza ce l'hai comunque dalle tue collezioni intuivo che l'occulto poteva essere una cosa che ti piaceva oh è arrivata anche la madre rivedere ballando la zumpa si sentirebbero le ossa scrocchiare ad ogni minimo movimento no 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 ma io non la ballo a me piace tantissimo guardare Ilaria che peraltro lei insegna in maniera divina ma non ci penso manco io vedo lei e vado a bermi un Gatorade vai Laura un'altra che si offre siamo una lista che non finisce più altro che pratica il master all'università in pendolo prendi a sto giro tutte cavie di coraggio ne ho in abbondanza è la paura che mi frega ma va ti può mica succedere niente quelli sono film l'importante è che non cerchi mai un un defunto mirato un'entità mirata ma se tu usi la guia chiedendo solo c'è qualcuno che vuol parlare allora nessuno ti dice niente nessuno si offende l'importante è che non vai a cercare spirito di tizio ci sei e gli vai a rompere i maroni tutto lì sì che ha molti segreti lo so la sila però ecco immagini di niente di quei luoghi non me ne erano mai arrivate davanti agli specchi però fuori allora sì potevano essere guide assolutamente sì sì avevamo capito dentro e noi infatti carri avevi capito bene tu sono io che ho capito male fosse una novità nel specchio magari sua maestà il mattia se si fa vedere non mi ricordo se ci ho fatto il video dopo ci guardo se no te lo scrivo poi pam ah vero carri hai ragione potevano anche dare l'idea magari di convincere a guardare in quello o al contrario stare lì per non far vedere quello magari la intimorisco e lì non ci viene per qualche motivo ah eccolo cosa angela oddio erano fuori dagli specchi ma davanti lì nel prato sì sì avevo capito male io auto ma aveva capito bene carri e sì 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 serata bella a parte che ero senza voce anche stasera siamo paperino però meglio di ieri insomma petardi a parte è che sono ancora tutta intasata ornella buonasera e no ma infatti l'avevi capita giusta sono io che ho capito patate per sciupolle ma al solito ma fuori o dentro cosa oddio fuori o dentro ah le guide che sono apparse durante una regressiva davanti ad alcuni specchi di autun celeste buonasera voglio capire se il percorso che ho scelto per la mia vita lavorativa è quello giusto ma è quello è difficile da capire ma io sono sicura che se è quello che veramente vuoi è quello giusto a prescindere perché noi comunque le sensazioni che ce le porta il nostro suggeritore il nostro istinto le dovremmo sempre seguire siccome sono io utilizzerei una guia per chiamare qualche demone superiore per quello evito ma guarda i demoni molte volte vengono arrivano tranquilli ma non sono quelli dei film dell'orrore eh Marcello non ti attaccano a meno che non gli rompi i maroni proprio e non becchi quello che magari è un pochettino più suscettibile se vai a rompere le scatole ad Andras ti polverizza nel giro di tre minuti ma perché è proprio Andras che non sopporta le rotture di scatole lui pretende un atteggiamento quasi devozionale però non sono tutti così quando chiamo il mio ci dico vuoi paesace sei? e lui arriva quindi sì l'ha visto Veronica non è ambientata in Messico Veronica è accanto in Spagna comunque l'hanno pompata tanto la storia di Veronica credimi ci hanno messo un sacco di religione che non c'entrava un tubero proprio come al solito e hanno pure screditato un demone a gratis non ti preoccupare Angela riposati Chiara buonasera vado a vedere controllare mia mamma ti ringrazio molto per la disponibilità allora attendo che torni buona continuazione a tutti buona serata felicità bellissimo metterti in difficoltà ma tu come sempre ne esci gne 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 non posso metterla con la gif del coniglietto che muove il culo po 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 po겠어요 e perché il pulcino incarognito pam un'altra anomalia questa sera ne approfitto nei cambi di luna schizzo dal letto come il pirata po 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 la mia compagna si lamenta sempre giustamente e sei sensibile agli effetti lunari ce ne tante persone così io no ogni tanto in congrega quando qualcuna delle colleghe mi dice ah stasera con la luna ciocco con la luna la luna mi agita io non la sento gli influssi lunari non hanno una grande impronta su di me però ci sono persone più sensibili a l'attrazione lunare proprio un po' come la marea come la risolvi con delle pietre calmanti quarzo rosa o larimar addosso forse è l'unico modo o nella federa del cuscino sì ma sicuramente ma non c'è scherzata troppo Marce perché non è uno che sta agli scherzi e Maria Teresa se fosse facile capire qual è il proprio ruolo avremmo risolto tutti quanti bisogna prestare attenzione a cosa ci arriva di volta in volta e cercare di collegare le cose ma volte volte ce ne accorgiamo quando ormai il percorso è già quasi finito ma allora quando ci sono morti improvvise può essere che un demone si sia talmente infastidito da uccidere appunto una vita terrena ma no è difficile è molto molto difficile i demoni gli angeli oddio sia i demoni che gli angeli se devono farti fuori ti fanno fuori non è che se ne fanno problemi gliene frega niente farti fuori significa solo farti tornare a casa è l'essere umano vivo che ha paura della morte e la vede come una cosa brutta ma alla fine per loro è come darti un calcio nel culo non è che sia chissà che gravità eccola appunto anche Pamela è lunatica Antonella buonasera quando mai non screditano i demoni ma infatti fa troppo comodo avere il male e il bene è l'ipocrisia umana esatto devono incolpare qualcuno o applaudire qualcuno però più incolpare qualcuno senza nemmeno rendersi conto parlano di cose che non sanno solo per sentito dire dalle religioni che hanno interesse a fingere che ci siano i due poli il bene e il male andassero a prendersi una camomilla sto finendo la carta igienica perché mi devo risoffrire il naso abbiate pietà non ho finita scusate pensavo di essere un licanto troppo represso in quel caso ululavi sono Frank cosa puoi dire di più di Andras e in cosa intendi per popolverizzarti cosa puoi fare beh le allora le entità elevate che la gente poi divide in angeli demoni in realtà sono la stessa razza angeli demoni quelli che vengono chiamati angeli quelli che vengono chiamati demoni quelli che vengono chiamati caduti alcune tipologie di guardiani e altro ancora sono tutte razza della quinta dimensione e sono della stessa razza c'è quello simpatico c'è quello più antipatico c'è quello più esigente e c'è quello più soft ma sono entità elevate quindi tendenzialmente non lo fanno perché non gliene frega niente di venire a rompere le scatole ai mortali che sono qua a scuola ma se gli si manca di rispetto o se comunque facciamo delle cose che vanno contro i loro servigi i loro interessi siamo maleducati o pensiamo di comandarli in qualche modo cosa possono fare ci possono guardare e tirare uno sputo e tu diventi un mucchietto di cenere se vogliono poi che non lo faccia è un altro discorso ma il potere di farlo loro ce l'hanno increscente sono stizzosa antipatica incalante un angelo io non la sento l'influsso lunare sì quando è del tutto piena a volte mi sento un po' se la guardo mi sento in pace come stessa mi sento ricaricata di energia positiva manco fossi una pietra però in generale non influisce sul mio umore sul mio stato d'animo meglio il quarzo rosa piuttosto che un proiettile d'argento suppongo di sì non ho mai provato il proiettile d'argento ma il quarzo rosa l'ho provato e devo dire che non è poi così drammatico perché se la morte non è così malvagia soffrono tutti prima di farlo soffrono tutti prima di farlo chi? cosa? la morte? a parte che non tutti quelli che muoiono soffrono ci sono persone che se ne vanno via proprio serene col sorriso e stanno benissimo quando se ne stanno andando quindi non è vero che soffrono tutti soffrono i vivi che restano ma perché l'essere umano è fissato che la morte sia brutta ed è fissato con le nostalgie non ti vedo più non te parlo più non te sento più quando noi piangiamo un defunto non lo piangiamo per lui che è morto lo piangiamo perché a noi ci manca quindi anche il nostro pianto è comunque una forma di egoismo non di bene se ci vogliamo ragionare sopra per caso hai ancora dei sigili disponibili per la vendita io sto cercando quello di Boone devo vedere se ce l'ho Boone non lo so ne ho ancora qualcuno adesso sto smantellando qui perché devo fare un repulis della stanza e ho tanta roba giù di sotto dal magazzino domani ci guardo e ti so dire autum se ce l'ho Boone non me lo ricordo cosa ho e cosa non ho e infatti Pam non soffrono tutti ma molti soffrono per il dolore fisico che hanno perché se ne stanno andando con del dolore fisico ma non è la morte che è brutta è il dolore della malattia o dell'incidente se c'ho un dolore fisico che mi fa male che non riesco anche io piango e sto male a prescindere che poi mi salvo o muoio ma non è la morte che mi fa piangere che mi fa star male e ho paura di quello che non conosciamo quello sicuramente la paura è un altro discorso aver paura di ciò che non si conosce è un altro paio di maniche avere appunto dei figli piccoli aver paura del loro futuro o di come la prendano è un sentimento ma non è paura in sé della morte è di tutto ciò che concerne quella morte nel contorno però vivo materiale e ma il dolore fisico non fa parte della morte fa parte della malattia non è la morte dolore fisico anche uno che è malato ma non muore soffre nella stessa modo non è più paura della morte è aperto orizzonti ne sono contenta chiara io della morte mai avuto paura della morte non si può avere paura anche perché oggettivamente parlando se c'è un continuo io sono sicuro alle mie certezze che c'è un continuo ma anche uno che non ha idea di quello che può esserci se c'è un continuo continuo e quindi il problema non sussiste se non c'è niente e mi spengo come la bajur non me ne accorgo e quindi il problema non sussiste l'unico problema se lo crea il religioso che ha paura di un giudizio che per fortuna io so che non esiste e quindi quella paura non ce l'ho certo Laura del dolore ho paura anch'io ma il dolore è portato dalla malattia non dalla morte in sé ripeto ci sono tante persone che muoiono col sorriso proprio serene pacifiche senza dolori qualche elemento a volte c'è dolore ma certo adida però a volte c'è dolore ma non è una cosa scontata qualche giorno fa di mattino sentivo nell'aria gelida e sentito una presenza vicino a me e a vedere a pixel guardando nel posto dove credo ci sia un portale non vedendo niente così ho salutato e ho chiesto se era il vecchio proprietario ma non ero convinta fatto domanda e sono cadute un sacco di cose tranquillamente da anni appoggiate nello stesso posto allora ho chiesto papà ma sei tu e lo so che ti mette male farti riconoscere e di nuovo cadute altre cose ero abbastanza tranquilla facile che fosse tuo papà forse la morte come il parto soffri quel momento poi finisce tutto anche anche fatina a volte c'è quello stacca quel dolore lì che dici tu è quando si verifica in condizione di lucidità totale il distaccamento dei meridiani del corpo astrale dal corpo fisico allora si ha questo dolore ma è roba di qualche istante meno di un parto del dolore nel trapasso ho paura ah si quella mi la fastidia anche a me madre l'idea di poter patire di soffocamento per qualche istante mi fa venire l'ansia già sto male con la tosse figuriamoci una mia streghetta urbana Silvia buonasera Isabel buonasera si si sono sopravvissuta anche a sta voglia di là mi hanno detto tu sei scema restatele di qua ho provato su lievo quando è morto mio padre perché soffriva da cani e quando è successo era finalmente libero esatto Laura molte volte molte volte è più una liberazione dal dolore certo ce l'este ho paura del dolore della mancanza di ossigeno ho provato l'annegamento da piccola brutta cosa anche io non ne ho paura alla fine si torna solo a casa si infatti il dolore lo sente il tornare a casa è relativo ma certo ma chiunque stia male anche io per mio papà chiunque stia male in quel modo sia terminale tutto chiunque gli deve augurare di andarsi il prima possibile via non il contrario io non sono cristiana non ho paura di morire anzi sono molto curiosa però lavorando nel sanitario ho visto tanta sofferenza ma certo barbara ma la sofferenza è per le varie patologie malattie fisiche materiali non è per la morte in sé ho l'altra mia figlia Dea Estrella buonasera c'è tutta la famiglia stasera a me è successa una cosa particolarissima stavo smantellando i mobili in giro per casa e mi è capitato tra le mani un pendolo un pendolo di acqua marina bello e anche antico che però io non ricordo assolutamente di aver mai avuto e me lo sono trovato lì pociato su un mobiletto ma non so da dove sia saldato fuori è acqua marina peraltro non avevo mai visto un pendolo di acqua marina io dovrò usarlo per forza devo prima bene informarmi sull'utilizzo del pendolo d'acqua marina perché non avendolo mai usato non sono ferrata di che si parla qui di quello che vuoi tu parla poi qualcuno ti risponde sempre qua facciamo un salotto nel medico che dirige tre ospissi infatti ma perché è normale che le persone che arrivano negli ospissi di solito sono persone che hanno delle patologie pregresse Laura buonasera sì molto molto bello solo che è proprio particolarmente strano perché io non l'ho mai avuta non l'ho mai avuto questo pendolo non è roba mia anche perché di solito uso pendoli tutti in pietra non quelli che hanno la lavorazione con il coprifondo quelle cose strane che mi capitano in questi giorni sto poco a niente ho tosse e raffreddore allergico però mi ha preso una botta molto molto forte mi ha irritato gola bronchi e vado avanti a sciroppo e cortisone e ieri stavo proprio messa male con la voce stasera me la un po' meglio un'altra sera ho fatto un sogno lucido con papà ridevamo tanto dovevo fare una visita e lui voleva accompagnarmi ma io gli dicevo il dottore lo sa che sei morto allora voleva dire che era mio fratello hai poi scoperto che ti ha lasciato gli anacardi in cassetta no come faccio a scoprirlo però lo amo chiunque sia stato lo amo follemente ringrazio volevo sapere come fare per sentire meno la mancanza di qualcuno intendo qualcuno non fisico ovviamente i mesi di aprile e novembre dicembre per me sono proprio pesanti o meglio lo sono anche gli altri ma questi in particolare sento proprio un vuoto dentro e ho la tristezza al galoppo porto con me questa persona da tipo vent'anni anche se non l'ho mai conosciuta almeno in questa vita ci sono giorni che non riesco a soffocare un po' questa mancanza ma non in questi periodi c'è qualcosa che posso fare ho pensato a libernazione guarda eh Celeste c'è poco poco da fare perché succede a tanti succede anche a me per certi versi e anche ad altre amiche persone e purtroppo non c'è niente da fare quando arrivano gli attacchi così bisogna che ce li teniamo e aspettiamo di andare avanti perché finché siamo materiali comunque questo tipo di sentimento questo tipo di nostalgia questo tipo di mancanza di pensiero eccetera ci segue costantemente Rosita buonasera le collane e i bracciali possono portare fortuna si devono caricare ogni tanto fuori la luna piena con una vaschetta di acqua al lato funziona la vaschetta di acqua al lato non serve a niente caricare alla luna si funziona ma prima vanno purificati prima di farli caricare scaricandoli da tutto il negativo che possono aver assorbito le pietre possono essere scaricate anche sotto il getto dell'acqua fredda di solito altri materiali come plastiche legno metallo eccetera meglio con i fumi di palosanto o di salvia bianca per purificarli prima di metterli a caricare è stato il marito e il nano per gli anacardi no no loro non possono comprarli perché non li vendono qua in paese bisogna andare alla Lidl che non è qui in paese fuori paese e loro non avrebbero modo di andarci per me di venire in questo mondo dunque eravamo energie libere in giro per l'universo no eravamo anime in giro per l'universo però eravamo anime non eravamo energie libere siamo comunque una sorta di massa energetica tutta insieme non siamo sciolti nell'etere universale calcola che hai i suoi fan i fan perché mia madre si presenta sempre in sogno e cerca sempre documenti succede sempre quando penso al mio ex mo lì bisognerebbe vedere rosita che non ci sia qualche cosa da scoprire su qualche documento che su qualche foglio su qualche cosa che riguardava magari il tuo ex o il periodo in cui stavi con lui potrebbe essere un consiglio questo è stata un'amica vicina che avendo letto il post ha voluto fare una sorpresa ah beh sicuramente a qualcuno di qua assolutamente sì perché erano proprio nella cassetta d'avaposta però sono quelle sorprese belle che mi fanno piacere mi sono ripromesso di provare gli anacardi in teoria sono divamente intollerante anch'io un pochettino però me ne frego trovo buoni no ma davvero danno suefazione sti cosi vedi ma anche le tue tele sono gradite sono bellissimi cioè ma voglio dire perché sto aspettando i cancetti ancora ma 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 voglio dire ma che artista è questa donna sono delle meraviglie appena riesco a avere i cancetti subito parete d'onore sono stupendi altro che li uso come addensante per fare il caritai ah vabbè io non lo faccio il caritai li mangio così ah sì il piano anilico per forza non avevo pensato alla domanda del sogno mi è stavolta non sono stati no infatti i tuoi se li fregavano gli anacardi altro che lasciarmeli è frutta secca sono pieni di selenio di magnesio sono come le noccioline come le noci sono stupende Federica ha una mano che è qualcosa di scioccante nel dipingere veramente super esatto autun è vero sanno proprio di magia l'hai detta giusta dopo che ti arriva la terza in fila me le metto sono troppo belle tanto recupero i gancetti così me le metto tutte tre e io ti riempirò la libreria un po' la differenza di come si provano i sentimenti nell'oltre quando dice che i defunti provano i sentimenti ma non le emozioni non ho capito molto bene sono un po' rintronata allora prendi l'amore 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 in sé amare qualcuno significa volere il bene e il meglio per questa persona che amiamo ma le emozioni ci fanno a volte a volte esagerare perché quell'amore diventa possessivo perché quell'amore diventa spodestante tutto il resto perché egoisticamente per un'emozione di egoismo pensiamo che solo noi potremmo renderlo felice perché perché si perché si per egoismo quando siamo di là non ce l'abbiamo più questa emozione non c'è più la gelosia non c'è più l'attaccamento la voglia e quant'altro c'è solo il sentimento del bene quindi l'amore che però cerca di aiutarti cerca di aiutare la persona che ama anche l'odio l'odio in sé non è la voglia di vendetta che abbiamo noi vivi io odio una persona e voglio fargliela nastorte queste sono emozioni perché io sto bene se a lui gli vanno male o via dicendo ma al defunto che ti odia non non gliene frega niente di avere l'emozione della soddisfazione della vendetta quelle cose lì ti odia semplicemente potesse se tu stessi prendendo fuoco e lui avesse un bicchiere d'acqua se lo berrebbe come si usa a dire non si distacca completamente da te ma non è non attacca e lo stesso discorso è la questione dei sentimenti d'amore amore che se può ti aiuta in tutto ma non è appiccicoso ecco quello che ci appiccica alle persone è l'emozione che ci danno queste persone non il sentimento che proviamo per queste persone le emozioni sono egoistiche sempre sono ciò che noi proviamo mentre il sentimento è ciò che noi riversiamo sull'altro mi tocca tenere e tirare le penne sarebbe sicuramente più semplice credo se avessi delle cose da ricordare con questa persona però potevo scegliermela meglio in questa vita ma tanto se fosse celeste il filo d'argento in queste vite non ci si deve mai stare va male comunque per cui non sarebbe cambiato nulla succede a tutti quelli che incontrano il filo d'argento che alla fine non ci stanno l'ho spiegata prima Chiara comunque Chiara tu non puoi non averla Chiara l'anacardo stavo mangiando perché l'avevo preso mai me lo dovevo mangiare le anime ci spiano sono sempre accanto a noi delle volte se ci penso magari può non piacere beh non tutti eh Danny qualcuno si intorno a noi spesso sono intorno a noi anche quelli che non conosciamo ma non è che tutti i defunti stanno lì a stalkerizzarci eh molte volte gliene frega più niente della terra della vita materiale e continuano con i loro scopi e chi se ne frega di chi è ancora vivo eh ecco vabbè sì quello sì bagno soprattutto non sono simpatici prego Silvia spero di aver chiarito perché è complicata da spiegare schiacomi guarda l'odio si è trasformato non esistono mi sono indifferenti e quella è sempre la soluzione migliore pam a prescindere anche da vivi diglielo a lì lotare al militare mamma mia dalla coppa del cesso mi è uscito due volte dal muro mentre ero lì concentrata sul cesso e vedermelo davanti già non era simpatico mi si è bloccato l'intestino per due giorni e una volta direttamente dalla coppa del cesso che io così va bene sei inquietante meno male sono contenta Silvia il soldato mannaggia la miseriaccia a lui che anzi che alla fine ha deciso di mollarci e se n'è andata se no invece l'etrusco solo se sentiva accendere la lavatrice appariva meglio che la lampada di Aladino sfregola la lavatrice appare non la accende appare fortuna zero soldi niente saluto un giorno sì due no qualcosa non torna la prossima vita scelgo di essere un fungo beh ma Diego noi le lezioni spirituali le impariamo soffrendo mica stando bene e da lì credo che sia nata la frase che poi si sono fregati quelli della religione cristiana che dicevano beati gli ultimi perché saranno i primi dopo spero resti sì sì la registrazione Mary la lascio sempre le lascio tutte e le carico anche sul mio canale youtube quindi non si perde mai niente anche se non siamo medialici possiamo vederci defunti anche se non sappiamo che sono morti sì 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 può succedere quello dipende da quanto sia energetico quel defunto però succede anche a chi non è medialico di poterne vedere alcuni il post di Rita con il messaggio della signora con la giacca rossa forse tua nonna sì ma nonna di solito la vedevo adesso era parecchio però in effetti che non la sentivo non la vedevo più ed è un periodo un po' così a volte di ricordi di cosa quindi facile che fosse magari perché io ho i canali chiusissimi tra il raffreddore i casini con i vari lavori che devo portare a termine il mese prossimo devo far uscire anche il mio ultimo libro il lavoro normale e quant'altro più sti influenza che mi ha ammazzato i miei canali sono completamente serrati in sti giorni non riesco neanche a meditare voleva fare un'esperienza uscendo dal cesso no era solo uno stalker defunto che non capiva un belino tra l'altro se non sasso non provi nulla alla fine i funghi sono microrganismi vivi tecnicamente carri nello scintoismo anche il sasso c'ha un'anima e poi anche la pietra di fantaghiro comunque aveva la faccina e parlava possono far venire alcune malattie no Danny non ce n'è spiriti maligni che ammalano e fanno venire le malattie le maledizioni possono far venire le malattie le fatture possono far venire le malattie ma non sono entità che te le mandano sono vivi che te le mandano che tu hai ragione ma che sia argento rosso è comunque una sfida in più che mi sono scelta fammi sapere ah la metista hai ragione me l'ero segnato c'è l'estia però non c'ho guardata hai ragione me lo risigno un attimo se non mi scordo e domani ti ci guardo perché se no io se non segno tutto hai perfettamente ragione scusami c'ho una memoria poi stando così messa perdo anche quella poca memoria che avevo un piccione può volare le vecchie ti danno da mangiare gratis e cagli in testa chi ti rompe le balle in effetti io a te come piccione ti ci vedo ora mi dà fuoco a distanza anche lui come la comare eh sì infatti l'ho specificato prima che non c'entrano niente essere maligni il pulmo è vestito tipo la bot sì quello era vestito da marinare più che altro era l'aspetto del viso che assomigliava tanto ma tanto come lineamenti a quello che in love boat faceva il capitano Stuwing con i capelli così bianchi con la cozza pelata gli occhi azzurri azzurri era molto simile come faccia e mi è rimasto tanto impresso poi anche l'abbigliamento comunque sì sullo stile proprio delle navi da crociera americane che lavoro faccio e sto io insegno all'università della terza età informatica poi a volte a tempo perso riparo computer riparo telefonini faccio lezioni private di informatica se c'è bisogno di dare una mano di aiutare le persone anziane lavoro anche lì dove trovo non ce l'ho un posto a parte l'università della terza età tutte le settimane gli altri posti sono un po' saltuari sono sempre in giro io ne sono sì sì ma sicuramente andiamo bene gli piacciono le voci alla Maria del Filippo poi adesso ce l'ho pure messa male non è che debbili a calci perché vuole che cambi canale invece ha detto ma questa rompe ancora basta le foto di Frigissier ah già vero l'avevo promesso ah ho perso il colpo aspetta eh a fine a fine a fine diretta te la metto me la sono messa sul desktop apposta poi mi sono svanita ora con la diretta non posso caricarle finché non non finisce la diretta quando è il tempo grazie qualche persona qualche patologia o cosa è sempre lui che mi da l'input e che mi aiuta quindi l'entità più cattiva entità cattive nel senso di cattiveria come la intendiamo noi vivi più cattivo dell'essere umano vivo materiale credo che non ce ne siano se intendi pericolosa perché ignorante e quindi può sembrare cattiva perché comunque è come una belva no? un leone un giaguaro non sono cattivi però sono animaleschi sono selvaggi e lo stesso discorso vale per quelle che le entità vengono definite cattive ma non sono cattive sono gli elementari che sono delle entità primitive quindi sono delle entità che hanno la stessa intelligenza la stessa istruzione di un uomo della preistoria per cui sono pericolose ma non è perché sono cattive perché sono selvagge e istintive si è usata completamente di giuna di tecnica per non scendere troppo di energia quando sono connessa con l'inverso vado a mille invece altri periodi ho meno energia qualche tuo libro ne parla cosa mi consigli? eh Silvia la prima cosa in assoluto sempre soprattutto quando si hanno rapporti con le entità eccetera è quello di usare una bella schermatura imparare a schermarsi sempre 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 prima di tutto puoi portare qualche protezione addosso la tormalina è più contro gli attacchi dei vivi per le energie è sempre meglio per bilanciarle portare un ametista addosso a volte anche l'occhio di tigre può aiutare ma in generale la prima cosa in assoluto da fare è imparare bene a schermarsi sempre ragazzi mi sta morendo la batteria porca paletta perché è un'ora e mezza pensavo meno non mi ero accorta che avevo la batteria un po' più bassa reggerà se scompaio nell'oblio o sono morta per la bronchite o è morta la batteria ma è più facile che sia morta la batteria dire a me chi sta antipatico un arcangelo ci sono delle tecniche apposta Silvia dopo ti metto il link del video mio dove spiego la schermatura proprio perché adesso qua non posso fare né copia e incolla né niente finché non fisso ah non posso attaccare il caricabatterie ti spiego il perché perché io non uso il caricabatterie uso il cavo fisso di là dal comodino del letto perché lo uso come sveglia e ho la calamita sotto non c'ho lo spinotto quindi non posso usare altri cavi per attaccarlo e con la calamita ce n'ho uno solo che è fisso dal comodino quindi qua non lo posso scaricare ecco appunto siamo tutti concordi che quell'arcangelo sia di un simpatico esatto esatto Federica glielo stavo dicendo gli volevo mettere il link ma adesso non posso con la live dopo glielo metto contro la negatività di certe persone quindi eh contro le negatività dei vivi la tormalina nera forse forse è proprio la migliore in assoluto sempre però va scaricata sotto l'acqua più volte e quello dipende perché ogni tipo di pietra ogni tipo di esercizio mira a una sensibilità sola non c'è una tecnica per ampliarle tutte ce ne sono tante ma bisogna vedere cosa vuoi su cosa vuoi lavorare le tormaline nere le vendono di solito le vendono anche io ma al momento le ho completamente finite tutte se no le vendono i negozi di minerali alcuni negozi di esoterismo validi o alcune colleghe che le vendono ora non so se Giovanna Giocento ne ha ancora o se Giovanna Cavarra ne ha ancora tu non so se hai tormaline al momento ma anche il quarzo di alino che respinge invece di assorbire si però il quarzo di alino fa da scudo ma quello che ti becchi tu o quando lo levi o cosa non te lo leva invece la tormalina ti assorbe anche quello che tu hai dentro oltre a assorbire quello che ti arriva però va scaricata più spesso le tormaline io le ho finite completamente tutte quelle in vendita mi è rimasta la mia unica e la mia gigante che uso in postazione lavoro questa è la mia santa protettrice premia personale di quelle in vendita non ne ho più al momento si si appena mi riarrivano se te le dico da lì di solito mi arrivano sempre a periodi reggere assieme a livello fisico ma reggere a livello fisico loialino si regge bene è la tormalina che tante persone non reggono perché si sentono scaricare proprio quindi lì bisogna vedere se reggono la tormalina per lo più è proprio la persona stessa a mandarsi negatività si si infatti la negatività ce la tiriamo anche noi e si esatto francesca a tanti lo fa che non riescono a reggerla io per esempio ci dormo anche tranquilla adesso non ce l'ho ce l'ho di là però ci dormo anche tranquilla addosso non la levo mai ci faccio la doccia non mi fa niente a tante persone invece le scarica proprio concentrato di negatività al contrario perché la tormalina assorbe le tue energie quando non c'è più niente da assorbire quindi vuol dire che negatività ce n'hai poca e allora ti assorbe il resto e si Angela la tormalina tende a scaricare anche le persone si si e infatti Laura io invece ci dormo tranquilla a me non fare caldo né freddo però appunto è una questione meramente energetica personale un seretto di tormalina ma va tolta ogni tanto se non ti crea problemi e non ti assorbe energie no puoi starci sempre se invece va tolta per scaricarla sotto l'acqua ogni tanto la devi scaricare sotto il gelato dell'acqua però poi la puoi rimettere chiedi chi era le giovanne se no quando mi arrivano le nuove ti avviso ma non so quando mi arrivano si si anche io adoro la tormalina io c'è campo ci ho anche detto questa qua gigante che è la mia preferita che la tengo qua nella postazione a lavoro ogni tanto la tengo in mano così come un santino e mi ripulisco ho avuto una bella idea di mettermi tormalina nera asciuncite e olice va bene ma anche tu sei eccesiva tra pietre nere di quella potenza con l'asciuncite che poi è anche contro l'elettrocampo magnetico ti ha massacrato per un pezzo grosso come il tuo e guarda io questo qua l'ho trovato per puro caso a un mercato a una fiera e il prezzo era decisamente buono perché me la misero 18 euro ma è enorme e c'è anche la pirite tra l'altro incastonata e allora mi sono convinta a comprarmela e in effetti fa tantissimo io a volte la tengo proprio in mano così per ripulirmi ed è pazzesca come funziona bene però è stato appunto il caso di aver trovato questo affarone e preso al volo perché se no un pezzo così grosso io l'ho visto in giro meno di 30 35 euro non si trova pagata 18 io mi assorbo tutto quando mi si confidano dei loro problemi mi sembra di prendermi tutti i mali del mondo mi ci vuole una tormalina grande come una capoccia ti ci vuole che chiudi un po' l'empatia mi sa tu Diego perché più che prenderti i mali del mondo è che assorbi tanto a livello empatico credo e quindi è la tua stessa empatia che ti fa accusare i colpi oh là di nuovo la batteria quant'è mi è rimasto un 7% di batteria ragazzi io direi che esatto è stato un colpo di fortuna per quello l'ho presa perché sennò io di solito mi fornisco dai miei fornitori dalle cave in india dai posti dove compro di solito ma quella mi aveva proprio chiamato poi ho visto il prezzo più che ottimo e allora l'ho presa ho trovato una collana in giro con una pietra verde forse la tormalina ti manderò una foto mandami la foto comunque si c'è anche la tormalina verde però la più protettiva è la tormalina nera anche se anche la tormalina verde aiuta comunque mandami la foto che ti so dire che pietra è buonanotte Silvia ragazzi vi do la buonanotte anche io perché se no non riesco a metterlo in carica a caricare quella live anche sul canale di youtube mi è rimasto un 6% scarso di batteria e anche alla voce e all'acqua come si blocca l'empatia interessa anche a me che soffro da una vita quella è più difficile non ci sono tanti metodi purtroppo se siamo empatiche ci puoi fare poco notte Diego notte Stefania buonanotte Francesca siamo arrivati a pari con la batteria perché tu sei la secretaria notte Tonella notte Danny vado a cercare a arcare c'è le voci notte Marcello io uscivo con due che non facevano altro che lamentarsi il potevo quella lì perché ti distruggono anche il sistema neurale la gente che si lamenta ricontinua a me dopo un po' mi dà i nervi sì la schermatura a specchio è la migliore in quei casi ciao Pami buonanotte a tutti avevo capito che era ricaricare ma volevo sfotterti come che tu coglioni non si dice ci sentiamo domani se non mi sentite è colpa della diretta di stasera Maria Teresa buonanotte sì sì ho capito la schermatura con gli specchi avevo capito e in effetti è ottima anche quella quella non l'ho mai spiegata vedi nei miei video ora mi prendo l'appunto anche per la schermatura a specchi Laura buonanotte ciao a tutti notte fiammetta